. Le anticipazioni spagnole di novembre del Segreto, svelano che Maria rivelerà a Fernando che Beltran e Speranza sono in realtà vivi. Le anticipazioni delle nuove puntate del Segreto, in onda in Spagna dal 26 al 30 novembre, svelano che Maria racconterà a Fernando la verità su Esperanza e Beltran. Dolores, intanto, scoprirà che Gracia ha partorito un bambino, mentre Onesimo e Paco si cacceranno nei guai con le guardie civili. . Il Segreto anticipazioni, Gracia è diventata mamma. Antolina deciderà di eliminare il marito utilizzando l'aiuto del Marchese dell'Oso, se quest'ultimo non decidesse di lasciare Quente Viejo, a proposito, la donna somministrerà un sonnifero a Elsa, in quanto vuole sbarazzasi di lei prima che venga portata in ospedale. . Alla casona, Fernando lascerà Quente Viejo senza dare una spiegazione dopo essere stato ingannato da Maria. . I seguaci del Segreto, scopriranno che l'uomo ha fatto finta di andarsene per trovare i certificati di morte di Speranza e Beltran. . Marcel, intanto, concederà il perdono a Consuelo per averla estromessa dal piano di Elsa, mentre Ippolito rivelerà a Dolores che Gracia ha partorito. . A casa Guerrero, Consuelo riuscirà a salvare Elsa prima che sia troppo tardi, qui la ragazza rivelerà alla nonna di Julieta di essere convinta delle intenzioni cattive della moglie di Aes. . . Fernando, intanto, sarà disposto a tutto pur di scoprire la verità sulla morte dei figli di Maria. . A proposito, quest'ultima avrà intenzione di sedurre il figlio di Olmo, in quanto convinta di averlo in pugno. . Infine Dolores rivelerà a tutta la cittadina di Quente Viejo di essere diventata nonna. . Il segreto, trame novembre, Esperanza e Beltran sono vivi, onesimo arrestato. Le trame delle puntate spagnole di Il segreto, in onda dal 26 al 30 novembre in Spagna, svelano che Antolina riuscirà a mettere Isaac Guerrero contro Consuelo e Elsa. . Raimondo, nel frattempo, cercherà di mettere in guardia Maria, che invece non gli presterà attenzione. . Il marito di donna Francesca, a questo punto, si recherà da Fernando per ammonirlo, se quest'ultimo non andasse in escandescenza. . Successivamente Eustaquio Molero arriverà a Puente Viejo in cerca di Severo, mentre le guardie civili arresteranno Onesimo e Papo del Molino per aver stampato falsi manifesti fulbri. . Alla casona, Maria deciderà di dare fiducia a Fernando, tanto da raccontargli che Beltran ed Esperanza sono in realtà vivi e vegeti. . Molero e Severo, nel frattempo, si incontreranno per rivolgere le loro divergenze. . Qui Eustaquio chiederà di comprare le terre della tifondista a prezzi esorbitanti. . A casa Guerrero, Antolina preparerà una cena per suo marito, a cui inviterà anche Marcella e Mattias, in questa occasione, la moglie di Aesex crediterà Elsa agli occhi degli invitati. . Alla casona, Maria accuserà Fernando di essere coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso, tanto da voler una spiegazione. . Infine Julieta cercherà di convincere gli abitanti di Las Lagunas ad unirsi a Severo, mentre Dolores cercherà di sbarazzarsi delle banconote false per non aggravare ulteriormente la posizione di Paco e Onesim. . . . . . . . . .